Un viaggio musicale con poste italiane torna Europa in canto alla nuvola di Roma. Con l'evento intitolato Stravinsky e Ravel due mondi a confronto, torna domenica prossima l'appuntamento con i dialoghi sinfonici di Europa in canto, il ciclo di concerti di musica classica nell'ambito del festival Eurcultor perso la nuvola di Roma. Sostenuta da poste italiane, la rassegna l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e le loro famiglie alla musica classica, ai grandi compositori. Un viaggio musicale ricco di emozioni, alla scoperta dei segreti e delle curiosità che si cerano dietro ai brani e le opere più importanti, insieme ai giovani musicisti dell'Europa in canto, orchestra guidati dal maestro e direttore artistico Germano Neri. Anche per l'evento di domenica prossima, che è il terzo dei cinque totali poste italiane e in qualità di sponsor, mette a disposizione ingressi gratuiti per i dipendenti. Tutte le informazioni per partecipare le trovate sull'intranet Noi di Poste. Grazie. 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 Grazie.